La sicurezza in agricoltura come opportunità e investimento sul futuro. Se ne è parlato ad AgriWorld, l'evento di settore in corso a potenza durante il quale sono stati presentati anche gli ultimi dati sugli infortuni in Basilicata. Ci dice di più Ada Serra. Sono 631 gli infortuni sul lavoro in agricoltura in Basilicata da gennaio 2022 a marzo 2023. Numeri in calo rispetto al 2021 che l'Inail spiega così. Gli infortuni diminuiscono ma è comunque da attenzionare il dato della sicurezza sul lavoro perché è correlato anche alla forza lavoro che di per sé è diminuita. La sicurezza di chi ogni giorno lavora nei campi o nelle aziende di trasformazione è stata al centro di un dibattito ad AgriWorld, evento che fino a domenica porta all'Università degli Studi della Basilicata imprese, ricercatori e istituzioni. Simulare in un luogo digitale le costruzioni, le fasi di lavoro e quindi poter sperimentare ad esempio l'aduzione di dispositivi di protezione individuale. Quindi si diceva una volta, sbagliando si impara, si può sbagliare in un luogo digitale quindi senza conseguenze. Tra proposte e buone pratiche per un'agricoltura sempre più moderna e sostenibile c'è anche quella di giovani lucani che hanno deciso di fare impresa nel settore della sicurezza. In ambito agricolo noi distribuiamo dispositivi di protezione individuale e insieme all'operatore gli facciamo vedere come indossare perfettamente una maschera, come poter manutenere il prodotto che si è utilizzato. Intanto l'Inail mette a disposizione 950.000 euro per le aziende agricole lucane che vogliono investire nella protezione della vita dei lavoratori, un bando attivo fino al 16 giugno. C'è uno stand in AgriWorld proprio dell'Inail per essere accanto alle imprese.